Se il pala partene per il Tempio della Musica a Napoli, il suo ediatore, Gennaro Manna, per tutti i rino, è sacerdote. Un sognatore schivo e determinato che 43 anni fa immaginò un luogo dove ospitare i grandi eventi, partendo da una piccola struttura in via Lagusto per approdare rapidamente in via Barbagallo. Per il suo compleanno, 80 anni portati magnificamente, gli auguri in video di Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Riccardo Cocciante e Ornella Vanoni, ma soprattutto l'abbraccio di tantissimi amici artisti. Ma il Manna è un'icona, io gli voglio bene perché penso che in questo teatro, si chiamava Teatro Tenda, si chiamava Paola Partese, si chiamava Teatro Tenda, nel 1979 io ho debuttato qua con Zappatore, con Renato Russo, con la compagnia del TTC, quindi puoi immaginare l'affetto che mi lega a questo signore al quale voglio bene, al quale vogliamo tutti bene. Il fatto che io sono la sua festa, sono strafelice perché Rino è amato da tutti, non solo da me, ma perché è lui che merita, perché si fa proprio vuole bene. Quando l'ho visto io ho detto, ma non è possibile, se questi sono gli 80 anni spero che arrivo anche 80 anni presto, perché vorrò dire che sono più giovane di adesso. Per Napoli è stato qualcosa di importante, che nessuno ha mai pensato di fare una struttura del genere e di portarla avanti. Gennaro è molto ben voluto in città, questa festa testimonia quanta gioia di vivere a quest'uomo che si porta magnificamente 80 anni. Vincendo la sua ritrosia, invitato sul palco da Gigio Rosa e dalle note del DJ Emidio Palomba, Manna si è raccontato, rivelando anche l'unico vero cruccio della sua storia imprenditoriale. L'evento che io desidererei fare qui è che è l'unico artista che è mancante nel Palapartena per i Vasco Rossi, quindi, come dicevo prima, mettere a disposizione anche due mesi per Vasco Rossi la struttura, così avrei completato tutto il programma e tutto l'iter dei grandi artisti. Occhi lucidi per i figli Fabiana, Tiziana e Sascha, ma anche per la compagna discreta, la signora Manuela. Il tributo di tanti artisti, Gigi Finizio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Granatino, Gianfranco Caliendo, Giacomo Rizzo, Angelo Di Gennaro, Peppe Iodice e Saldavinci, ha reso la serata all'altezza della grande storia del Palapartena per dirino Manna. Grazie. Grazie.